Una lettera senza valenza giuridica, quella inviata dalla Regione, che di fatto blocca il piano regolatore di Atessa, tuona il senatore D'Alfonso. Non è possibile, aggiunge, che un ufficio pubblico della Regione, che ha per mandato statutario l'aiuto della vita dei comuni, si sostituisca e si costituisca contro la vita dei comuni. La legge, secondo D'Alfonso, è chiara. Quando ci sono situazioni di conflitto di interesse, non è possibile che il Consiglio Comunale proceda nell'attività adottiva degli strumenti urbanistici, ma lo deve fare il commissario ad acta. Chi sostiene il contrario, in una lettera irrituale e illegittima, sbaglia. Per entrare nel merito, l'anomalia è che la Regione si costituisce contro i comuni, di fatto, con questa posizione nei confronti della variante del PRG. La Regione, per statuto, ha il mandato di aiutare i comuni, i corpi intermedi, e aiuta i comuni dialogando sul piano istituzionale, con attività tipica, delibere, atti ufficiali, esaltazione della ragione, della precauzione che, per esempio, è scritta nella delibera del Consiglio Comunale di Atessa, la quale afferma la realtà di Atessa. Poiché siamo 15 consiglieri comunali su 17 in conflitto di interessi, la legge ci obbliga a richiedere il commissario ad acta. E anziché favorire questo, che la legge prescrive, si organizza l'ostacolo. Allora, io voglio capire, che cos'è successo? Sono stati raggirati questi due funzionari, che si chiamano De Julis e La Flacco, e il suo capodipartimento, che si chiama Pescara? O sono stati raggirati, o hanno vissuto un tale malessere, che hanno firmato questa lettera, come per dire, così mi libero. Certo, non è una lettera che è frutto di automatismo, di genuina elaborazione. Lei ha parlato di pressioni? Beh, io ho parlato di una condizione confusionale, derivante o da una vicenda amorosa che li ha storditi, o da una vicenda dannarosa che voglio escludere, e di una gravità inaudita. Ed è per questo che io mi rivolgo direttamente anche ai funzionari, oltre che alla politica. Se hanno bisogno di un avvocato per recuperare la loro autonomia, sono pronto a fornire io l'avvocatura gratuita.